Lino Conte, direttore artistico dell'omonima compagnia teatrale, siete impegnati in questo cartellone dell'estate leporanese, restate a Leporano. Il teatro ha un'importanza fondamentale in questa rassegna? Beh sicuramente, anche come tradizione se vogliamo all'interno di un cartellone abbastanza nutrito che va tranquillamente dalla musica al teatro, alla sagra, c'è un po' di tutto e quindi non potevamo mancare a questo appuntamento con l'estate leporanese, con i leporanesi, con i turisti, con l'amministrazione comunale di Leporano e con tutta la Puglia perché dobbiamo ricordarlo l'estate leporanese è stata veramente una perla a livello di turismo ed è stata l'attenzione dei mass media e lo è ancora per tantissimi anni per tutto quello che ha fatto e continua a fare. Quindi noi siamo fieri di far parte di questo bellissimo cartellone. Il teatro come momento di aggregazione? Ma sicuramente, sicuramente perché il teatro nella sua fase non soltanto della messa in scena dello spettacolo ma attraverso i messaggi che lancia, attraverso i messaggi che vuole dare al pubblico con il teatro comico, con il teatro brillante, con il teatro drammatico, dà questi messaggi importanti che avvicina il pubblico e che alla fine ne discute ed è bellissimo perché poi il pubblico si avvicina agli attori, alla compagnia e comincia a parlare del messaggio sociale che si è inteso lanciare e quindi se ne discute quindi anche questo è un momento di aggregazione molto importante. Grazie a tutti.